Centuries later, I again walk the streets Che è una scena molto particolare Perché noi, il conte Dracula, re di regni e cose Ci siamo risvegliati dopo secoli e secoli di dormita praticamente E ne abbiamo fatto un cazzo perché eravamo morti e poi risorti Ci siamo svegliati nel presente, tra virgolette, no? E dico, nessuno si è accorto che questo è uno zombie Molto, molto particolare Molto, molto bello, tra virgolette E poi Io questo devo ancora capire cosa Cos'è Devo ancora capire Perché non ho visto i vostri commenti Porca tra... non ho capito se è un sogno Se è una cosa passata Però mi sembra strano, no? Chi è lei? Ragazzi, veramente io... Io penso che Castlevania Castlevania Sia un gioco molto, molto ricco E penso che veramente sia un peccato Che su YouTube Italia Giochi del genere Amica mia, sapessi qua quanti problemi avevamo Mi pare strano Cioè, no, strano no Perché ormai siamo abituati a YouTube Italia, no? Che Clash Royale fa 200.000 visite E un gioco come Castlevania Ne fa 50.000 Ma... Cazzo, ragazzi Castlevania A quanto pare veramente premette benissimo Ha un comparto audio da brividi, ragazzi Tanti giochi odierni Non hanno un comparto audio così elevato E così pieno di copyright Questo è notevole Notevole, notevole, notevole Anzi, vi invito già da subito A chi va Di farmi un buon montage Un funny montage Un best of funny montage E di caricarlo su YouTube A fine serie E di avvertirmi attraverso i video Così magari lo carico sul canale, no? Ma a me parano idee bellissime Ok Ok Capirai? Stiamo messi a bocconi Ok Ragazzi Sì Ma no, no No, ma come Ma Prova a pararmi Perché la schifata è inutile Ragazzi, ma No, ma qualcuno mi aiuto Aiuto Sono un vecchio in difficoltà Vi giuro Ma penso che devo andare così, ragazzi Perché Ma posso mangiarmelo? Ma poi Perché c'è sta creatura? Si è praticamente spento E la peppa Che figo sei Dicevo ma Sono così pippa Che non riesco a vincere contro quello Questo chi è? Va bene Sveniamo E ci sta Non abbiamo forze, ragazzi Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Assolutamente Non è che magari Mi li devo mangiare Per riprendere la mia forza C'ho sta sensazione Non lo so perché Oh Ma non sei neanche se so cattivo Pezzo di merda Eh, però, regà Mi sa che è quello che dico io, regà Mi sa che è quello che dico io, regà Madonna mia Non credo che c'era possibile Di fare diversamente Però Madonna mia Eh, se non muoio Eh, che devo fa' Eh, vedi Già la respirazione Ci è cambiata Uuuuh E per forza Ce l'hanno messi là dentro Per forza, ragazzi Per darceli a noi Per farci riprendere Merda Oserei dire proprio Merda Me lo permettete? Sì che me lo permettete No? Nel senso Perché? Chi ci sta aiutando? Non ho capito Quante domande E quanto siamo diventati belli di nuovo Facci sapere Poi quante cazzina ha questo gioco, ragazzi? Ok Pure a me Onorato Oh Madonna mia Questo Ma no Questo sta Mamma mia Lascia perdere quello Sì Uuuuh E che non mi ricordo Oh grazie E' gentilissimo Ah è un ologramma però Beh Mi sembra una buona idea Comunque Sono affascinato ragazzi Eh Eh Non sto zitto perché me la voglio godere con voi Eh beh Me sa Ecco Ah allora lo sai eh Lo sai che c'hai il cazzo piccolo Eh Bene Te seguo Ecco Bravo Incominciamo con i giusti convenevoli Ti prego Ti supplico Ti leccolo Ecco Che poi sapete benissimo Che sono tre dei sette nani Quindi Ragazzi Comunque le cazzine sono impressionanti eh O ce ne sono una cifra adesso Oh 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 Sti cazzi Se stiamo a vedere in firma Però dobbiamo capirla la storia comunque no Ah la stanza Ma la bambina Ma la bambina La bambina secondo me non l'abbiamo uccisa Possibile? Oh vedi che è bravo Oh vedi che è gentile Oh vedi che è gentile Vedi ce ne partiamo belli decisi Lui è soddisfatto C'è la sua guardia del corpo Che è tipo Bellissima Avrà dei poteri incredibili E qui partiamo già con Ok Sento un accenno di chitarra elettrica Mi ricorda molto David McRae Le chitarre elettriche In particolare l'ultimo no? Eh Sì però io vorrei giocare anche Bellissimo però Eh E saresti morto Mi ammi date un'armatura anche a me? Mi ammi date una Un'armatura anche a me? Non Mi date una spada Mi date qualcosa Vado là e ci tiro il pene addosso Con l'elicottero Cosa dovrei fare io? Non ho niente Molto molto bello Ma vorrei una spada Un'armatura Cose belle Ok Molto Vi sembra molto alla Batman? No? Per dire Queste inquadrature La città così Mi dava tanto tanto Di Batman Bello 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 Se fosse stato fatto Ai giorni nostri Cioè adesso Con la next gen Fatto con la grafica Di che Non lo so Di Gears of War Con l'ungea in 4 Con la 3 Avrebbe stato tipo Pazzesco Pazzesco Ma date Allora Uno sono bianco Cataverico Aspettate che forse Oh Già me sento meglio E io c'ho i vestiti nel sangue Questo non lo sapevo La spada come stiamo messi Ora puoi consultare il diario di viaggio Premo il back Questa pagina è il diario di viaggio La mappa usa per trovare la selezione di missioni In qualsiasi momento Ok Va bene Mappa del mondo Ok La mia missione attuale Indicata sulla mappa Speriamo che non sia Un open world Perché Mi sono preparato Psicologicamente A un gioco lineare Tra virgolette No Quindi Speriamo Speriamo Che non sia Una sorpresa Ok I pugni dell'ombra Che poi mi avete detto Tra l'altro Che sono infiniti Si ricaricano subito Sono fatti apposta Eccetera eccetera Ok Ok Va bene Ci sta Infine ci sta Già stiamo a 15 minuti di registrazione Non ho fatto niente Non ho giocato Andiamo un pochino avanti Andiamo un pochino avanti ragazzi C'è qualcosa di oscuro E malvagio Oltre a 580 topi Che ho visto a destra Vediamo un po' Che cazzo sei uno di Warhammer Mamma mia Come mi dovrei nascondere Per l'amor del cielo Eh ma chiudi gli occhi Frate Ah no ok Sono diventato un sorcino Faccio finta di camminare Sono un sorcino Che non mi vedi Non è che tante volte Non ci vedo qua eh Cioè non vedo Non vedo niente eh Non è che Non mi fanno più passare questi sorcetti di merda Come devo fare? Forse provo eh Sono un sorcetto Sono un sorcetto Ok Sono Ma mi seguono Che carini Oddio Ok Bello 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 Mi ricordo come fare Ok Ragazzi ma guardate che è bellissimo eh Il pisellone dove cavolo è andato finito Vabbè Ah Eh ho capito Ho capito Ho capito Se magari non se ripiega Ok Grazie mille Bello raga Bello 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 Qua potete Possiamo vedere Evolutive I loro corpi Sono stati Gericamente modificati Perché Rappidamente maggiormente Rispetto all'uomo L'essere umano La rapidità non mi ha però Consente di sviluppare Rappidamente la loro mente Infatti se non fosse per Ah ok Eh Questo mi piace Farlo vedere Ok Mamma mia Bello 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 Ok Ci siamo Chiudiamo qua Grazie Tranquilla Ci penso io che i vapori Bello Mi piace assai Ragazzi Assai 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 Allora qua Dobbiamo vedere Se riusciamo a trovare Nuova Ai 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 Vabbè Probabilmente Rubbiamo l'arma E lo devastiamo L'altro Potrebbe essere così Ok Però qua c'è Della corrente elettrica Che va in termintensa Figo però Non è proprio Come me lo aspettavo Cioè È un misto Incredibile Questo gioco Ma Devo capire Come nascondermi Adesso Cioè Quale punto buio Ci sta Ok 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 Quindi le distraggo Tutte e due Con i pipistrelli Se non sbaglio Se io faccio così Ma come Sono solo pipistrelli Vai Vai così Ok Ma do Cosa 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 Merda Guarda sto stronzone Oh Oh mamma mia No No scendi 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 ancora Va Perfetto Lui sarà un casino Distruggerlo Tra virgolette No Ok Non ho ancora Il potere necessario Per arrivarci Però Abbiamo fatto Già un altro Checkpoint Minchia 20 minuti Ragazzi Dovrei Lei è la bambina Di prima O è Oh Vedi che sei un ragazzo Intelligente Sempre detto io Perfetto Signori Io direg L'appuntamento di oggi Può finire qua Spero che il video Vi sia piaciuto Se Coca Coca Cula Beh Alla Sale Ciao Chi è? Ai gatto Chi è quello giallo? Sardi